Musica Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla rassegna stampa Occhio ai giornali, come sempre iniziamo la giornata sfogliando l'insieme Il resto del Carlino, messaggero e corriere adriatico Non prima però di aver visto la Manalco del giorno e le previsioni del tempo Oggi sabato 21 novembre, la Chiesa osserva la presentazione della Beata Vergine Maria Il sole è sorto alle 7.09 e tramonterà alle 16.38 Guardiamo le previsioni del tempo, iniziamo dai dati che ci rimanda la nostra centralina La nostra spostazione meteo che trovate anche sul sito di Fano TV Quindi la potete consultare in qualsiasi momento della vostra giornata Anche attraverso la app di Fano TV, scaricabile in tutti gli app store Oppure anche sull'altro portale E quindi la temperatura è di 18,7 gradi In questo momento un'umidità del 61% Guardiamo la foto che ci rimanda la webcam Vedete cielo molto nuvoloso e infatti le previsioni del tempo In questo momento c'è un vento di garbino veramente importante La temperatura è di 18 gradi, lo testimonia Però le previsioni per questo fine settimana non sono affatto belle Almeno sulla carta e sui modelli matematici della protezione civile Il cielo è parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata Addensamenti, zone interne, transito di nubi nel pomeriggio E' un cielo molto nuvoloso a cominciare dai settori settentrionali E nubi in sviluppo cumuliforme Vedete proprio la simbologia molto eloquente Temporali, compare anche appunto la simbologia del temporale La pioggia sul crinale appenninico Ma anche sulla parte alta, sulla nostra provincia Temperature in aumento nei valori E precipitazioni nella prima parte della giornata Deboli, diffuse nei settori interni Appunto in particolare in quelli esposti a ovest Vediamo anche i venti che sono particolarmente intensi Nella prima parte della giornata Forti, sud occidentali, raffiche fino a tempesta In particolare nelle zone interne Però dal tardo pomeriggio c'è una diminuzione dell'intensità Il mare è mosso Però con moto ondoso in diminuzione Fino a poco mosso Domani, domenica Vedete la situazione se non peggiora Anzi peggiora sicuramente Perché vedete anche la colorazione delle nuvole Diventa ancora più scura Proprio sulla costa Temporali E addirittura compare anche Vedete nella zona bassa delle Marche La simbologia della neve Quindi cielo molto nuvoloso Nella prima parte della giornata Però schiarite anche nella seconda parte A cominciare dai settori sententrionali Quindi si va verso il bello Dopo un inizio un po' non bello Precifitazioni nella prima parte della giornata Rovesci temporali sparsi E di forte anche intensità Le temperature inizieranno a scendere I venti saranno ancora questi i protagonisti Delle prossime ore Raffiche fino a Burrasca Lungo tutta la fascia costiera Di Brezza verso l'interno Lunedì anche lunedì Se non è zuppa e pan bagnato Come si dice Quindi compare la simbologia del sole Però la pioggia È su tutta la regione Inizialmente poco nuvoloso Con aumento della nuvolosità Nella tarda mattinata E cielo nuvoloso nel pomeriggio Precipitazioni nella tarda mattinata Debole e sparse Carattere anche di rovescio Lungo la fascia costiera Quindi lungo la fascia che riguarda Appunto la nostra zona Il limite delle nevicate Anche qui oltre ai mille metri Le temperature sono ancora in diminuzione Per la prossima settimana È previsto tra l'altro Un brusco calo delle temperature Tutti i modelli matematici lo indicano E quindi insomma Si entrerà in una fase di freddo Addirittura con diminuzioni Di oltre 10 gradi della temperatura Rispetto a quella che abbiamo In questo momento Quindi prepariamoci A un sbalzo di temperatura importante La tendenza per i giorni successivi L'inizio della settimana Instabile Residui della perturbazione in transito Nel fine settimana E questa era la previsione meteorologica Abbastanza eloquente Insomma non avremo un fine settimana Di sole Va bene D'altronde la stagionalità È quella che è Guardiamo i giornali Iniziamo dal resto del Carlino La pagina di Pesaro Vediamo che cosa ci propone La pagina di apertura Fotonotizia centrale I cartelli di forza nuova Non fermano la preghiera Dell'imam E dice L'isis è come il cancro Quindi terrore Terrore appunto No al terrore Per quanto riguarda La preghiera Nelle moschee Quindi una condanna Della violenza Che si è perpetrata In questi giorni A Parigi Funerali della 19enne Una chiesa Non basta Per dire L'addio A chicca E poi In testa La politica Ricci Pronto a 25 milioni Di investimenti Soldi alla mano Serenzi Mantiene Lo sblocco Del patto Il patto di stabilità Rovescio La città Come un calzino Questo è il virgolettato La dichiarazione Del sindaco Di Pesaro E poi Si butta Da 22 metri Ma si salva Cagli E fuori pericolo Un 43enne Che si è lanciato Dal ponte Vediamo ancora Le altre pagine Del resto del calino Che riguardano Sempre Pesaro Il turismo Prima di ogni cosa Il turismo È un'asse centrale Della provincia Di Pesaro E di Urbino In particolare Per la città Di Pesaro Il sindaco Ricci sta spingendo Molto su questo Aspetto E quindi Il sindaco Rivendica La coerenza Dubbi sui dati Il 3% Va bene Ma forse È di più La tv Come scelta Non lo faccio Per me Questo in risposta Alle polemiche Che Lo tacciano Di essere Un presenzialista Nei network Nazionali Televisivi Tavoli programmatici Appunto Sul turismo Dobbiamo lavorare Tutti insieme E Pironi Annuncia Una super Ciclabile Dell'entroterra Adesso Anche la cronaca Nelle pagine Del resto Del Carlino Di Fano Di Pesaro C'è stato Un arresto Importante Per Spaccio Di droga Sono appunto In manette Madre e figlia Finite Nelle maglie Della giustizia Alla squadra mobile Di Pesaro Capitanata Da Silio Bozzi Mette al sicuro Due spacciatrici Madre e figlia Sequestrati Cinque chili Di metanfetamina E mille pasticchie Fermate a Bologna Il carico Veniva dall'Olanda E poteva Fruttare Alla famiglia Fino a Cinquecento Mila euro Di incassi Adesso Vediamo Le pagine Del resto Del Carlino Che riguardano Fano Naturalmente La povertà E la crisi Economica Aumentano E quindi Gli accessi Di conseguenza Anche alle mense E alla Caritas E appunto A parlare È Angelo Farnetti Direttore della Caritas Di Ocesana Di Fano Forse Ombroni Cagli E Pergola E adesso Vedete Una foto Della mensa E aumentano Gli accessi E si impegnano Addirittura Più di Mille cinquecento Le famiglie Aiutate Il dossier Svela Negli ultimi tre anni Gli uomini Hanno superato Le donne Ben 260 Volontari 48 luoghi Di distribuzione Cibo e abiti Ogni anno Ci sono Nuovi clienti Per questa Per questa Insomma Che è sicuramente Una piaga Dei giorni nostri Che si è andata Accentuando Con la crisi Economica Politica Anche su Fano Nelle pagine Del resto Del Carlino Danna scrive A Seri Opponiti Alla chiusura Del Santa Croce Danna è sempre Stato Un assiduo Sostenitore Dell'ospedale Di Fano E quindi Sprona Il sindaco Seri A non Cedere L'ex consigliere Dice Rischi di essere Ricordato Per questa Sconfitta La risposta Chiamata La proposta Chiama Ha raccolta I fanesi E guidarli Davanti All'ospedale Come insomma È avvenuto È avvenuto Anche Altre volte E poi Sull' L'ex Sull'ospedale Anche L'ex Primo Cittadino Aguzzi Dice la sua E si rivolge Al suo Successore Rischi Le sabbie Mobili L'opposizione Di Aguzzi Bisogna Ascoltare Anche La vallata Quindi Insomma Il sindaco Massimo Seri Avrà Insomma Di che Di che Occuparsi Per questa Vicenda Spronato Anche Dall'opposizione E dagli Gli ex consiglieri E poi Due Celebrazioni Oggi Avvengono Per due lutti Uno Insomma Passato Sissi Non c'è più Insomma E ancora Fa male Non so Se vi ricordate Quell'incidente In motorino Al Insomma Al Fenile La ricordano Gli amici Silvia Talevi Abitava Appunto A Fenile E fu Travolta Col suo Motorino Da un Camion Oggi Alle ore Diciassette Al Carmine Sarà celebrata Una messa Voluta Dalla Famiglia E poi Ultimo Addio A Sergio Maggioli Fotografo Amante Della Fotografia Un custode Della Città E Oggi Alle ore Dieci Nella Gran Madre Di Dio L'ultimo Saluto A questo Custode Della Città Che Insomma Ha regalato Scatti Molto Belli E Così Che permettono Di Perpetrare La memoria Insomma Della Città Attraverso Gli scatti Del passato Cambiamo testata Andiamo Al Corriere Adriatico Partiamo Dalle pagine Che riguardano Pesaro La strada Giusta Ora il cambio Di mentalità Anche qui In grande evidenza Gli stati generali Sul turismo Ricci su programmazione Assi strategici E investimenti Nel settore Al lavoro Anche con la Rai Per una Fission Sul Cigno E sui luoghi Rossiniani Tra le nuove Iniziative Anche Un convegno Sulle Icon Cities E un meeting Internazionale Fra le realtà Unesco E quindi Questo rapporto Che si stringerebbe Ulteriormente Con Recanati E con un film Sulla vita Appunto Di Giacomo Leopardi Che fa la combine Con Pesaro E Gruppo BS Il lavoro Accordo tra Azienda e sindacati Speranze per 1120 Lavoratori Il gruppo BS Stabilizza 80 Dipendenti Firmato Il contratto A tempo Indeterminato E quindi Buone notizie Sul fronte Del lavoro Fano Per quanto riguarda Il Corriere Adriatico Parla Anche qui Di ospedale Seri Rilanci Carignano O Fosso Seiore Aguzzi Promette Sostegno Se verrà avanzata Sostenuta Dal sindaco Questa Questa Ipotesi E quindi Insomma Massimo Non cadere In una trappola Lotta Contro La nuova struttura Queste le parole Nel Corriere Adriatico Di Danna E poi Insomma Come Come sempre Nel approssimarsi Delle feste Si incomincia a parlare Delle manifestazioni E degli eventi Che riguardano Il Natale Qui si parla Dell'albero Nel Corriere Adriatico Nella pagina Di Fano L'albero È simbolo Del nostro Natale Seri spiega Che si tratta Di un progetto Unico Intorno al quale Si sono già Catalizzate Le energie Dei commercianti E quindi Aspettando le feste Aspettando di vedere Questo albero artistico Qui vedete Nella foto Presentati anche Dei modellini Che sono anche A disposizione Di negozianti E di persone Che lo vogliono Anche comprare Per farne Un regalo Richiamerà Gli emblemi Della città Come la fontana Della fortuna L'arco d'agusto E San paterniano Quindi ci saranno Immagini evocative Della città Di Fano E poi Appunto Anche qui Il dossier Della Caritas In tre anni La povertà Si è triplicata Andiamo a vedere Anche le pagine Di Senigallia Insomma Questa settimana È stato qui Per primo cittadino Il sindaco Mangiagalli Che ha anche lui Detto la sua Sulla sua città E anche loro Hanno a che vedere Con i ladri Nelle abitazioni Ladri acrobati Ancora in azione Colpo in un apportamento Di via di Vittorio Si sono arrampicati Anche qui Dalle grondaie Via soldi E gioielli Sembra appunto Che le grondaie Siano le vie D'accesso preferite Che permettono Di arrivare Anche ai Piani alti E poi La differenziata Appunto vedete Nella foto Il sindaco Mangiagalli Che dice Raggiunta la quota Del 69% Si scaglia Contro i 5 stelle Che dicono Con loro Con la loro proposta L'immondizia Sarebbe Nei fossi Dieci anni Di corsa Quindi insomma Comune Virtuoso Anche da questo punto Di vista Quello di Senigallia L'ultima testata È quella del Messaggero Come sempre Vediamo La fotonotizia Centrale Appunto Richiama L'arresto Per droga Che è stata Ritrovata In macchina Per mezzo milione Di euro Ecstasy Mamma Mamma E figlia Arrestate E poi Blizze Di forza nuova Contro le moschee La polizia È in allarme L'inverno È in anticipo Dice Insomma L'articolo Del meteo Del messaggero E poi Turismo Anche qui In testa Nella pagina Di apertura Del messaggero 40 eventi Per volare Agli stati generali Del settore Il comune Presenta Le novità Dell'estate 2016 E 16 E la pagina Che riguarda Fano Appunto Anche qui Grande evidenza Sul Ospedale Nuovo ospedale Appunto Aguzzi Ed Anna Chiedono a Seri Di dare battaglia Il PD Si metterà Sempre di traverso Dice Aguzzi Loro vogliono Il polo A Pesaro Lasciando In cambio A Fano Una clinica Privata E quindi Dice a Seri Sto con te Per Chiaruccia Ma è ora Di lottare E di coinvolgere I comuni Anche limitrofi Calcinelli Anziano Al volante Esce di strada Si schianta Contro Un albero E il primo Cittadino Dice Sono stato L'unico In risposta Appunto Ad avere Il coraggio Di battere I pugni Sul tavolo E si stupisce Un po' Di queste Aggressioni Quindi Ritornando Sul discorso Ospedale E anche qui La notizia Dell'albero Di Natale Definito L'albero Delle meraviglie Perché la struttura È sicuramente Imponente È un albero Di legno E metallo Ha una struttura Di 12 metri Largo 6 E pesa Oltre 140 quintali Il comune Ha speso 21.500 euro Il resto Sono Derivano Da sponsor E dalla Proloco Bene Questa era l'ultima pagina Che vi facevo vedere Grazie per essere stati In nostra compagnia Durante la rassegna stampa Un saluto va anche A tutti quelli Che ci seguono Nelle repliche Occhi ai giornali Tornerà Naturalmente Lunedì mattina Alle 7.30 Questa sera Occhi alla notizia Per l'informazione Del nostro Tg Grazie E buon fine settimana A tutti voi